Ciao, sono Arianna e oggi vi spiego come fare la figura del ragno con i palloncini modellabili. Allora, ci serve un palloncino di un colore per fare il corpo e tre uguali dello stesso colore per fare le zampe. Iniziamo gonfiando il palloncino per fare il corpo. Questo palloncino ci serve quasi tutto gonfio, vedete? Si possono lasciare tre dita alla fine. Leghiamo al cerchio questo palloncino con uno semplice nodo, poi riuniamo le due parti e a metà facciamo una torsione. Prendiamo circa due quinti della lunghezza dei due palloncini e facciamo una torsione. Così verranno divisi la testa e il corpo. Per fare la testa uniamo ulteriormente le due parti e la stessa cosa per il corpo. A questo punto gonfiamo i tre palloncini per le zampe, tutti della stessa lunghezza, quasi tutti gomiti. Allineiamo i tre palloncini per le zampe e a metà facciamo una torsione per unirla. Poi facciamo passare tre zampe all'interno del corpo. In questo modo. Tre danno parte e dall'altra. In ogni zampa, a metà zampa, facciamo una piccola pallina d'aria e poi rigiriamo su se stessa. In modo che le zampe siano rivolte verso il basso. Ecco qua il nostro ragno. Grazie. 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 Grazie.